Lo stadio Zaccheria diventa sempre più bello dopo la sistemazione della parte superiore della gradinata est. La foto della nuova gradinata, passa sui social, fa un certo effetto, seggiolini bianchi su sfondi rosso e nero e il simbolo della città, le tre fiammelle. Il completamento dei seggiolini garantirà la fruibilità al 100% della capienza dello Zaccheria, che attualmente è di 11.318 posti, già a partire dal lunedì sera, quando il Foggia ospiterà il Catanzaro, nel posticipo della 36esima giornata di campionato. L'installazione dei seggiolini è stata effettuata dalla ditta Costruzioni Spagnuolo e si è resa necessaria sulla base dei nuovi criteri infrastrutturali fissiati dalla Lega Calcio Professionistico sulla capienza e i requisiti dello stadio, secondo i quali almeno i due settori, posto lungo i lati lunghi del rettangolo di gioco, devono essere dotati di seggiolini individuali. L'ultimazione dei lavori potrebbe spingere la società rossonera ad adottare nuovamente incentivi per i tifosi a regarsi allo stadio, un po' come avvenuto con il Campobasso, con agevolazioni per alcune fasce d'età. Il Foggia intanto prosegue la preparazione in vista della gara contro il Catanzaro. Zeeman spera di recuperare Ferrante, la cui assenza contro la Vibonese. Appesato nell'intera economia del gioco offensivo, i gol dell'ex Ternana, 15 finora, contano e non poco anche sui risultati e saranno determinanti anche in vista degli spareggi di promozione.